Sono Giuliano Biasio, sono il proprietario e il titolare di Ruvido Barber Rock Club. Ci troviamo all'Arcella, dove c'è la famosa chiesa di San Antonio. Sono nato qui e sono sempre vissuto qui. Questo locale è aperto dal 2017. L'idea era quella di far vivere la strada in maniera diversa. Noi facciamo dei live, una volta al mese circa, quando ci potevano fare, dove la band è dentro, utilizza come palco il locale e la gente, il pubblico, sta fuori in strada. Sono nato ascoltando questo genere di musica, la musica rock. Mio nonno, mio padre, mia mamma, mia zia erano tutti barbieri, parrucchieri, quindi è stato tutto un percorso abbastanza naturale. Noi siamo convinti, proprio come filosofia nostra, sia mia che del mio staff, e che da qualsiasi problema possono nascere delle opportunità. Quindi, onestamente, in due anni, nonostante le chiusure, nonostante le limitazioni, siamo riusciti a sviluppare altri progetti, altre cose che vedrete nei prossimi anni. Per noi il Natale, in realtà, non è tutt'altro che un momento di vacanza, nel senso che è il periodo dove si lavora di più. Sicuramente le iniziative, tipo quelle di mettere le luci e creare questo clima di festa, questo clima un po' più caldo rispetto al resto dell'anno, da noi è ben voluto, ben visto. Ovvio che da noi un albero di Natale ci starebbe un po' così. Non è tantissimo rock.